Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 delle migliori waffle maker del 2020. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato la Lagrange Waffle Iron 039161. Questa piastra reversibile per cialde firmata Lagrange offre un'ottima cottura dell'impasto. Oltre ad essere intercambiabile, la sua piastra permette di realizzare contemporaneamente due waffle da 15,5 x 10 cm. Questo consente di mantenere la loro forma iniziale, nonostante l'effetto del calore. Dotato di spia luminosa, il modello 039161 offre una sicurezza ottimale durante l'utilizzo. Il suo design retro prevede un cavo di alimentazione nella base e un termostato di sicurezza. A questo si aggiungono le maniglie ergonomiche che ne facilitano la presa. Dopo l'uso, il dispositivo può essere facilmente smontabile. Questo suo punto di forza dà anche la possibilità di cambiare il piatto e variare l'aspetto della cialda, sostituendolo con un piatto di forma diversa. A parte lo stile vintage, questa piastra per cialde sfoggia due colori molto distinti, un corpo bianco e manecineri. La combinazione di questi colori la rende ancora più attraente. Per il design, Lagrange si è affidata a un materiale tanto resistente quanto leggero, la bachelite. Per una dimensione di 35 x 24,5 x 13,5 cm, questo articolo ha un peso totale di 3,3 kg. Anche se il suo aspetto ricorda un vecchio modello, la sua potenza di 1000 W la colloca tra le macchine waffle più efficienti. Viene fornita con una garanzia di 3 anni, prova della sua durata. Questo apparecchio è dotato di piastre per waffle in modo che ogni famiglia possa usarla subito dopo l'acquisto. Come al solito su Top Tech, se vuoi avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e ottenere i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet, vai alla descrizione di questo video. Avrai a tua disposizione tutti i link cliccabili. Al terzo posto abbiamo selezionato la Premium Lagrange Waffle Iron 019622. Un semplice cambio di piastra ti permetterà di passare da una ricetta all'altra. Garantendo l'omogeneità di cottura, la reversibilità della base garantisce una migliore distribuzione dell'impasto. Grazie alla sua spia luminosa, la piastra percià della Lagrange Premium avvisa l'utente alla fine del preriscaldamento e lo avvisa quando i waffle sono pronti. Un segnale acustico rafforza questo avvertimento per evitare qualsiasi rischio di perdere le tue preparazioni. Oltre alle caratteristiche precedenti, le qualità di questo prodotto riguardano anche la facilità di manutenzione. Dopo averlo utilizzato è sufficiente premere il pulsante indicato per espellere il piatto, che può essere pulito in lavastoviglie. Inoltre, con una semplice regolazione elettronica puoi ottenere una ciada croccante o morbida, a seconda dei tuoi desideri. Per quanto riguarda i materiali di fabbricazione, rispecchiano la qualità e la durata di qualsiasi prodotto Lagrange. La piastra ha un design in lega di alluminio per garantire un'ottima distribuzione del calore. Dotata di rivestimento antiaderente, garantisce una facile sformatura delle cialde realizzate, impedendo che l'impasto aderisca alla sua superficie. Il manico in bacchilite ne rafforza vantaggi tecnici e il cordino removibile facilita lo stoccaggio del dispositivo. Se praticità e solidità sono tra i tuoi criteri di selezione, questa piastra per cialde premium Lagrange unisce tutte le qualità desiderate. Per una dimensione di 35x31x14,5 cm, questo dispositivo ha un peso molto leggero. In compenso, questa leggerezza non ostacola le sue prestazioni, ma garantiscono facilità nel suo utilizzo. Inoltre, il modello grigio Tortora ha una potenza di circa 1200 Watt. Al secondo posto abbiamo selezionato la Tefal SWW 85D Snake Collection. Appartenente alla categoria Snake Collection, questa macchina per cialde unisce qualità costruttiva e facilità d'uso. Con il suo piatto intercambiabile, l'SW 85D permette di realizzare ricette diverse dai waffle. Il suo design in alluminio offre omogeneità di calore e quindi garantisce una cottura perfetta. Inoltre, questo materiale è noto per essere sia durevole che perfettamente adatto alla cottura. Al termine della preparazione, non devi fare alcuno sforzo per rimuovere la piastra. È sufficiente infatti utilizzare l'apposito pulsante per questo scopo. Per avvisare all'utente, questa piastra per cialde ha una spia all'inizio e alla fine della cottura. Per chi non ha creatività, questo modello è una scelta saggia. Viene infatti fornito con un ricettario, oltre a una piastra per cialde e da sandwich. Tefal SWW 85D è stata realizzata in acciaio inossidabile per garantire un uso duraturo. Per un peso totale di 4 kg, ha una dimensione di 37,01 x 29,01 x 21,01 cm. La Tefal SWW 85D Snack Collection ha anche una potenza di 700 Watt e un sensore elettrico. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato su internet, clicca sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato la piastra per waffle professionale Krups FDD 95D. Per questa piastra per cialde Krups, l'aspetto robusto e le caratteristiche professionali sono i primi punti di forza. Oltre a questi punti di forza, FDD 95D ha un sistema rotante che distribuisce l'impasto in modo uniforme, favorendo così una migliore cottura. Dotato di 7 livelli di controllo della temperatura e una spia luminosa, questo articolo offre la possibilità di gestire al meglio la preparazione. Utilizzarlo significa realizzare cialde che soddisfano ogni aspettativa. Inoltre viene fornito con un ricettario. Oltre al manico termoisolante, l'FDD 95D Professional si distingue per la sua superficie non riscaldante, anche durante la cottura. Se la piastra antiaderente impedisce che l'impasto si attacchi, un dispositivo magnetico cattura le perdite lasciando la cucina sempre pulita. Dopo l'uso il dispositivo può essere riposto in verticale, un notevole vantaggio per limitare le dimensioni e l'occupazione di spazio. La piastra per cialde 28x27x48 cm offre la possibilità di realizzare due cialde, 10x16x3 cm. Questo modello nero e argento ha una potenza di 1200 Watt e un peso totale di 3,9 kg. Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e cliccare sui link per avere tutte le funzionalità complete e migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a fare la tua scelta, mettici un mi piace, ci scalderebbe davvero il cuore e iscriviti al canale Top Tech per essere informato sui prossimi video. Detto questo, ci vediamo alla prossima qui su Top Tech. Ciao!